Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Ne complotti, ne inganni Sindaco Seri replica l'attacco dei 5 Stelle sulla sanità e al collega Ricci rilancia a Muraglia la struttura privata e a Chiaruccia il nuovo ospedale Sullo scontro politico fra Fano e Pesaro interviene il presidente regionale Ceriscioli non servono fuga in avanti, le proposte dei sindaci hanno pari dignità Nuova azione di protesta di Staipe Messindial con un presidio di sindacati e lavoratori e uno sciopero di 8 ore nelle sedi di tutta Italia Ecco la storia di Sondino prima investito e poi operato il gatto è in cerca di una nuova famiglia L'avvocato Rossella Omiccioli è la terza vincitrice di un posto al getto per lei la possibilità di lanciare dolciumi da un carro del Carnevale di Fano Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Come avete sentito dai titoli il sindaco di Fano Massimo Seri oggi ha replicato al collega Matteo Ricci Se a Pesaro piace così tanto la struttura convenzionata privata ha detto Seri che la facciano a Muraglia e non al Santa Croce Sentiamo i particolari in questo servizio di Lino Balestra Ingannato? Ma per favore, ingannato lo dicono a qualcun altro Io ingannato è una città, io la rappresento è la prima volta che questa città viene rispettata fino in fondo Reazioni a catena per la sanità dopo la presenza di un presidente della regione Marche in consiglio comunale a Fano definita storica dal sindaco Seri e le sue affermazioni in apertura di assise Primo effetto, il sindaco di Pesaro Ricci convoca una conferenza stampa nella giornata di ieri in cui spara la bordata principale dopo mesi di silenzio ed esordisce dicendo che da novembre a luglio si è parlato sempre di Muraglia Ospedale Pubblico più eccellenza convenzionata al Santa Croce stile Cotignola oppure Nosocomio a Fosso Seiore più eccellenza convenzionata a Muraglia Stop, fine dei giochi e di Chiaruccia, neppure l'ombra facendo fare al sindaco di Fano la figura del terzo incomodo negli incontri tra lui e il neo eletto Ceriscioli Secondo effetto, contro conferenza stampa stamattina del sindaco di Fano che proprio non ci sta a fare il biscotto tirato dal suo collega Ricci per il cui quale testuali parole nutre stima e rispetto ma è ora di fare chiarezza sui contenuti Se così piace tanto a Pesaro che si tengono la struttura convenzionata per esempio a Muraglia che ha una sua logica per quel tipo di iniziative che è anche più vicino alla Romagna quindi può diventare anche un riferimento di freno per la mobilità passiva facciamo la struttura pubblica nel sito di Chiaruccia che ha una valenza provinciale che oggettivamente sfido chiunque a dimostrare, a confutare questi elementi oggettivi prima facciamo funzionare i due siti ospedalieri il Presidente ha preso degli impegni in Consiglio Comunale e io ho già detto li verificherò se questi non arriveranno non discuto di altro sono pronto a fare anche iniziative forti anche ad essere impallinato dall'opposizione Seri proprio non ci sta e con toni inusitatamente accesi e accalorati respinge il preso in giro e umiliato dei Cinque Stelle e promette di tutelare d'ora in poi la sua immagine e quella di primo cittadino anche con azioni forti sempre aggredisce sul piano personale usando anche aggettivi che non fanno onore a chi li scrive perché qui complotti, inganni qui non si inganna nessuno qui forse se ci sono relazioni di questo tipo perché c'è un sindaco che tiene la barra ferma e cerca di fare interesse a un territorio in una partita difficile e allora qui si vede la verità chi sta insieme al sindaco a ragionare seriamente lo aiuta e chi cerca di affossarlo e non facendo un dispetto a se stesso perché poi facciamo male alla nostra città Fano per la prima volta forse per davvero svolge un ruolo da protagonista ora il baricentro della discussione si è spostato sull'opzione sanità convenzionata per recuperare risorse visto quello che la regione spende in mobilità passiva verso la Romagna Cotignola ormai è il quarto ospedale delle Marche per spesa Ceriscioli in campagna elettorale ha sempre ribadito il concetto che l'abbattimento delle liste d'attesa è un primo segnale che il cittadino può percepire di una macchina pubblica che funziona forse lui ha un progetto ben chiaro in testa riguardo di questo concetto beh ha ragione perché il problema delle liste d'attesa è il problema più sentito queste vanno combattute con delle risposte queste vanno combattute rafforzando i servizi nel proprio territorio perché se qualcuno si rivolge fuori regione vuol dire che non trova la risposta uno è quello di aumentare la funzionalità dei servizi significa investire su personale e su macchinari ma soprattutto sul personale perché un macchinario può lavorare 10 ore e ne può lavorare 20 ma ci devono essere le persone che le fanno funzionare dall'altra come ho detto anche in consiglio comunale ci sono dei reparti che vanno rafforzati alcuni reparti purtroppo non hanno primario sono stati in qualche modo depotenziati e anche sviliti e dopo inevitabilmente i medici fuggono e i pazienti non ci vanno allora la mobilità si rafforza anche con questa è l'ultima volta che io tollero ci sono e sullo scontro politico sul nuovo ospedale oggi è intervenuto il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli con una nota stampa il governatore ha ribadito che le proposte dei sindaci di Fano e Pesaro hanno pari dignità e sono tutte legittime nessuna fuga in avanti precisa Ceriscioli ma sul tavolo ci sono tutte le riflessioni per provare a trovare una sintesi l'ospedale unico è una priorità non solo per la provincia di Pesaro ma per la regione e i marchigiani decideremo insieme agli amministratori e ai rappresentanti del territorio ha concluso il presidente provando a cercare fino in fondo la condivisione sul progetto nel suo complesso e il sito dove sorgerà il nuovo nosocomio e adesso passiamo alla cronaca perché una bomba carta o un petardo sono stati fatti esplodere dai gnoti ieri sera verso le 23 all'ingresso dell'aula del Consiglio Comunale di Senigallia dove era in corso una seduta dedicata alle osservazioni alla variante al piano regolatore generale lo scoppio ha danneggiato una porta a vetri ma nessuno è rimasto ferito e i lavori dell'Assemblea sono proseguiti irregolarmente nonostante lo spavento dei consiglieri finora non ci sono rivendicazioni del gesto ma ci sarebbe un sospettato un uomo con il volto in parte coperto da un cappuccio ripreso dalle telecamere di sicurezza del municipio e gli agenti del commissariato di polizia e della Digos sarebbero già sulle sue tracce il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi crede che possa trattarsi di un vero e proprio atto di intimidazione 40.000 lavoratori del gruppo Eni oggi hanno scioperato in tutta Italia per chiedere garanzie sul posto di lavoro a Fano i dipendenti della Saipem hanno presidiato di nuovo la sede di Bellocchi insieme ai sindacati maestranze Eni e Saipem di nuovo sul piede di guerra e un'altra volta per strada a manifestare assieme alle sigle sindacali la loro preoccupazione per il futuro del gruppo e l'annunciato progetto di vendita della più grande impresa chimica del paese e l'esito dell'incontro definito insoddisfacente dai sindacati del 12 gennaio scorso presso il ministero dello sviluppo economico alla presenza del ministro Guidi e dei vertici del gruppo Eni hanno portato allo sciopero generale di oggi di 8 ore e un picchetto di 2 ore fuori dagli stabilimenti compreso quello di Fano una partecipazione al presidio più contenuta dei lavoratori però ci hanno assicurato che molti non si sono presentati qui al presidio di 2 ore dalle 9 alle 11 sono di meno rispetto all'ultima volta forse perché non riguarda specificatamente come l'altra volta proprio la sede Saipem di Fano ma è un discorso più a livello generale più di sede nazionale comunque la preoccupazione per il futuro e la mancanza di risposte certe sul futuro dell'azienda e soprattutto anche sul piano industriale che a febbraio verrà presentato sono le cose che hanno animato anche il presidio di Fano nelle Marche poi dove Eni insomma ha il padre fondatore Enrico Mattei questa cosa stona ancora di più Eni è uscita da questa regione lasciando ogni centro direzionale a giorni chiuderemo l'ultima sede di Eni Gas & Power quindi insomma una situazione particolarmente difficile e incomprensibile per le sigle per le sigle sindacali l'atteggiamento dei vertici del gruppo Eni che hanno tenuto deliberatamente un profilo basso nelle informazioni risulta poco credibile e contestano l'ipotesi di un'accessione ad un fondo americano temendo o una dismissione o un consistente ridimensionamento dell'attività il gruppo Eni ad oggi non ha dipendenti solo gruppo Eni ci sono diverse aziende al suo interno che va dall'energia alla chimica ed è importantissimo che rimanga sul territorio italiano perché comunque gli investimenti che fino ad oggi vengono fatti sul territorio nazionale sono molto importanti per il paese se vogliamo guardare avanti se vogliamo parare sviluppo se pensiamo comunque in prospettiva il bene di questo paese una cosa è certa per lavoratori e sindacali non si può regalare la chimica italiana a un piccolo fondo americano il pacchetto di maggioranza e il centro decisionale devono rimanere in Italia e tutti i lavoratori tutelati andremo ad un confronto con l'azienda Saipem abbiamo indetto le elezioni dell'RSU lunedì scorso e quindi subito dopo entro il mese di febbraio faremo un incontro e un chiarimento su questi temi che sono rimasti sospesi sul futuro di questa sede e dei lavoratori dei mille circa lavoratori comunque di questa sede oltre 7 milioni di euro saranno investiti a Fanno per la difesa della costa e in particolare della spiaggia di Sasson e Baia Metauro l'amministrazione comunale ha approvato l'appalto per il ripascimento delle scogliere soffolte e la costruzione di scogliere emerse nel tratto tra il porto e Baia Metauro l'appalto su base d'assa di circa 2 milioni è stato assegnato con un ribasso del 27% pari ad oltre 1 milione 700 mila euro ad un'associazione temporanea di imprese di Agrigento e adesso vi raccontiamo la storia di Sondino un micio arrivato al gattile Melampo di Fano alla vigilia di Natale dopo essere stato investito l'animale ha riportato diverse fratture ieri i veterinari hanno dovuto amputargli una zampa Sondino ora sta bene ma in cerca di una famiglia che abbia voglia di prendersi cura di lui è forte e molto intelligente ed è il più tipico dei gatti il gatto di casa detto anche comune è l'esemplare più diffuso e conosciuto dall'uomo la sua capacità di sapersela cavare in tutte le situazioni da solo è proverbiale ma alle volte non sempre gli va bene soprattutto in questo periodo dell'anno dove il richiamo di madre natura lo porta a vagare anche lontano dai suoi luoghi abituali cosa che purtroppo lo espone a più pericoli come la storia di Sondino un gatto ospite del gattile Melampo che purtroppo oggi dovrà subire un'amputazione è un micio che è stato trovato una decina di giorni fa investito aveva un grave trauma al bacino e alla mandibola con una frattura importante che ha richiesto l'applicazione di un cerchiaggio e per diversi giorni è stato nutrito con un sondino esofageo di cui il suo nome l'abbiamo chiamato Sondino oggi purtroppo una delle zampine non è stata possibile salvarla e quindi sarà necessario appunto questo intervento di amputazione che ovviamente non gli pregiudicherà in alcun modo una vita felice comunque dignitosa in una famiglia tutti gli animali che vengono trovati sul territorio del comune di Fano incidentati investiti malati vengono portati una volta stabilizzati vengono poi portati qua quindi noi ci occupiamo del recupero laddove è possibile dell'animale quindi somministrazione di terapie medicazioni che si possono risolvere nell'arco di breve tempo oppure protarsi per più tempo in vista comunque sempre di un recupero totale della salute dell'animale per poi mandarli in adozione gli ospiti del gattile Melampo sono ospiti particolari che l'amore e le cure dei volontari gli restituiscono una seconda vita dopo che qualche brutta avventura li ha privati della loro proverbiale agilità ma che non li ha privati della loro socialità e potranno essere ottimi compagni di vita se li voleste accogliere nella vostra famiglia teneri affettuosi amanti delle coccole e questi mici meno fortunati degli altri sapranno esservi riconoscenti con il loro affetto per tanto tempo del resto si sa i gatti hanno sette vite speriamo che Sondino e gli altri gatti possano trovare una nuova famiglia ed ora cambiamo argomento questa mattina il presidente della Proloco di Monbaroccio Damiano Bartocetti è stato ricevuto in questura a Pesaro dal questore Antonio Lauriola che si è complimentato per il lavoro svolto con i mercatini di Natale Lauriola ha apprezzato la collaborazione attivata con la Polizia di Stato e le altre forze dell'ordine per organizzare i servizi di ordine pubblico durante lo svolgimento della manifestazione ieri sera in diretta su Fano TV è stato estratto il terzo socio dell'ente carnevalesca che avrà la possibilità di lanciare dolciumi da un carro del carnevale di Fano la fortunata è l'avvocato Rossella Omiccioli noi oggi l'abbiamo incontrata 1, 2, 9, 129 è la signora finalmente una donna Omiccioli Rossella veramente non me l'aspettavo ma sono contentissima perché sono anni che vado al carnevale ormai saranno 40 penso e il sogno di salire sul carro ce l'ho da parecchio e quindi è un sogno che si realizza quindi si inverte la prospettiva l'ottica da sotto a sopra da sotto a sopra sì quindi chiamate Rossella la squarcia gola e io vi riempirò di dolciumi però non è la prima volta in assoluto che mette piede su un carro soprattutto in una posizione sopraelevata diciamola tutta no ci sono delle talpe la vostra redazione sì perché quando ero giovane ero salita sul carro tra l'altro con parecchie altre ragazze vestite da sposa con gli abiti da sposa della ex Simone Bice e ci eravamo divertite ragazzi eravamo ragazzi tutti vestiti ballavamo le coreografie è stato bello però il lancio il getto è un'altra cosa il lancio è un'altra cosa penso che sia adrenalina pura vedere tutta la gente chi ti chiama bello bello spero poi di poterla condividere anche con mio figlio adesso sentirò Luciano Cecchini cosa mi dirà e continuiamo a parlare di carnevale perché in occasione dell'evento il maestro pasticcere Matteo Cavazzoni ha realizzato una torta da record con un peso di oltre 30 chili e un'altezza di circa un metro l'opera in pasta di zucchero rischia di finire negli annali della manifestazione la torta ha dei colori che richiamano quelli dell'immagine ufficiale di questa edizione tante decorazioni curate nel dettaglio e personaggi dei cartoni animati più seguiti dai bambini da Frozen a Topolino passando per i Minions domani pomeriggio invece il maestro pasticcere Stefano Ceresani presenterà alle ore 18 la sua opera d'arte una torta intitolata Carnevale al fondente bene questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale che torna puntuale domani sera alle ore 20 e 30 buona serata a tutti voi a tutti i nostri di aula a tutti i nostri